Musica Più Toscana in Europa, l'appello del Presidente Mazzeo alla sessione plenaria del Comitato Europeo delle Regioni. All'Istituto Varchi di Montevarchi, il bando Erasmus, le celebrazioni della Commissione Europa del Consiglio regionale. Addio al partigiano carrarese Giorgio Mori, un eroe toscano. Salone del libro La Toscana rilancia la proposta di legge per la lettura libera. In occasione della 155esima sessione plenaria del Comitato Europeo delle Regioni, si è riunita a Bruxelles la conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Provincie Autonome, nutrita la delegazione toscana che punta a essere più presente nelle istituzioni europee. Noi oggi siamo qui insieme a tutti i Presidenti delle Provincie, insieme al nostro Parlamento degli Studenti, perché vogliamo mandare un messaggio forte e chiaro. La Toscana vuole esserci di più in Europa, lo vuole fare tutti insieme. In Europa passa le possibilità di crescita della nostra Regione, i fondi strutturali, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la necessità di fare progetti che non diano solo risposte nel breve, ma guardino al futuro. E questa è la sfida che noi abbiamo davanti. Come sapete, qualche giorno fa l'Emilia Romagna, la Toscana sono state toccate, soprattutto l'Emilia Romagna, ma anche il Mugello, la parte alta della Toscana, da questa violenza inaudita, una violenza inaudita che è frutto dei cambiamenti climatici. Allora siamo qui anche per continuare le iniziative che portiamo avanti, perché la nostra Regione sia una delle Regioni più avanzate da questo punto di vista. Certo, ora siamo nell'emergenza e speriamo ci possano essere le condizioni, perché la parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che non viene utilizzata perché i progetti non possono essere dedicati, possono essere realizzati, possano essere messi a disposizione per un grande piano contro il dissesto idrogeologico. Questa è una battaglia che dobbiamo fare tutti insieme e questo è per l'emergenza e poi per il futuro ci immaginiamo che ci possa essere un grande piano di prevenzione a livello europeo, perché è un tema che non riguarda solo noi, ma riguarda tutti gli altri Paesi. Alla sessione plenaria ha partecipato anche una delegazione del Parlamento degli studenti della Toscana, che rappresenta i 160.000 iscritti alle scuole della nostra Regione. Noi come istituzione siamo 60 ragazzi che si occupano di riunirsi almeno una volta al mese per elaborare proposte e progetti proprio finalizzate all'aiuto e alla collaborazione fra istituzioni e studenti stessi. Le ragioni della nostra visita sono proprio fare ponte, fare da ponte, fare da coesione fra quelle che sono le tematiche affrontate ogni giorno con duro lavoro nella comunità europea per portarle ai nostri ragazzi in Toscana e quindi di conseguenza proprio di fungere da collegamento fra queste due realtà che alla fine sono in realtà molto strette fra loro. Per quanto riguarda questi giorni che passeremo a Bruxelles, non solo oggi ci stiamo occupando di questa grande descrizione di quelli che saranno i prossimi lavori della comunità, ma soprattutto nei prossimi giorni visiteremo il Parlamento stesso e anche il Parlamentarium. Un finanziamento da 30.000 euro per stimolare l'insegnamento e la ricerca sull'Unione Europea. È il premio che si sono aggiudicate le otto classi terze dell'Istituto di Istruzione Superiore Benedetto Varchi di Montevarchi in provincia di Arezzo, vincitrici di un importante progetto nell'ambito del bando Erasmus+. Un successo che è stato celebrato dalla Commissione Europa del Consiglio regionale della Toscana. È con grande soddisfazione che abbiamo aperto anche questa nuova fase di lavoro della Commissione Europa, anche qui con un lavoro condiviso, un lavoro che tiene di conto anche delle energie e soprattutto delle idee che nascono agganciate all'Europa sul territorio della nostra regione. Quindi davvero un'iniziativa da ripetere e un'iniziativa dalla quale abbiamo soprattutto noi imparato molto e credo che questo sia un elemento positivo da appunto replicare e far crescere ancora di più. Sì è importante questa mattina ma soprattutto è importante il lavoro che stanno svolgendo i nostri giovani all'interno del percorso di studi che si compie appunto nell'Istituto di Montevarchi. È importante che i ragazzi si avvicinano alle istituzioni, in questo caso c'è una bella unione perché c'è un'unione fra l'istituzione della regione toscana e l'istituzione europea. Io invito a approfondire questo argomento perché l'Europa forse noi non la conosciamo così bene, in questo momento i giovani stanno studiando proprio per avvicinarsi alla comunità europea e capire quello che succede e quelli che sono i meccanismi. Ma ascoltiamo in cosa consiste il progetto che coinvolge i ragazzi dell'Istituto Varchi. Il progetto si articola su tre anni, quindi viene proposto nell'ultimo triennio della scuola. Si articola in tre fasi. La prima fase, i ragazzi si sono focalizzati su che cosa l'Europa propone ai giovani, quali sono le offerte che l'Europa dà ai giovani. Nel secondo anno invece gli studenti si focalizzeranno sulle istituzioni europee, quindi il loro funzionamento, quali sono. L'ultimo anno, quando i ragazzi ormai sono più grandi e si avvicinano anche all'esame di Stato, che è chiamato anche esame di maturità, ci sembrava opportuno che loro riflettessero su che cosa invece loro, come studenti, come giovani, possono dare all'Europa, consapevoli del fatto che non ci sono solo diritti, ma ci sono anche doveri. Il Consiglio regionale della Toscana ha celebrato Giorgio Mori, il partigiano combattente morto lunedì a Carrara all'età di 100 anni. Protagonista della liberazione con la brigata Garibaldi, Gino Menconi, emigrante in Belgio dove lavorò come minatore e partecipò ai soccorsi durante la tragedia di Marsinelle, Mori ha trascorso la vita a divulgare e tramandare i valori della resistenza insieme alla moglie, Cesarina Tosi, una delle donne del 7 luglio. Ricordo ancora perfettamente le sue parole durante un incontro con i ragazzi in cui li aveva invitati a non essere indifferenti e a combattere sempre per la libertà, il nostro bene più prezioso, sottolinea il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, che aveva incontrato Mori in occasione della consegna di una targa. Mi disse che toccava a noi istituzioni raccontare la sua resistenza alle giovani generazioni, ora che Giorgio ci ha lasciato il suo testimone. Abbiamo il dovere di raccoglierlo noi. Senza Giorgio e quelli come lui che hanno sacrificato la giovinezza per combattere la dittatura fascista e l'occupazione nazista, non avremmo potuto vivere in democrazia e in libertà. Grazie Giorgio, ha concluso il presidente del Consiglio regionale, se è stato un eroe toscano, un eroe di libertà. È stata rilanciata anche dal Salone del Libro di Torino la proposta di legge del Consiglio regionale della Toscana per introdurre nelle classi del primo e secondo ciclo di istruzione 15-20 minuti di lettura libera, individuale e silenziosa. Il testo di legge, approvato all'unanimità dall'Assemblea toscana e presentato al Parlamento italiano, è stato illustrato anche al Salone del Libro, nello stand della nostra regione. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità una legge per introdurre uno spazio di libertà, di lettura libera nelle scuole del primo e secondo ciclo di istruzione per bambini e bambine, ragazzi e ragazze di tutta Italia. L'abbiamo mandata al Parlamento perché approvi una legge nazionale introdurre questa buona pratica in tutte le scuole. È un momento per recuperare la lettura allo spazio della passione, dell'intrattenimento e non collegata sempre all'adempimento dell'obbligo scolastico e al compito dello studio. Crediamo che così tanti italiani potranno riscoprire il piacere della lettura anche da adulti e così non soltanto disporre di uno strumento davvero di alleggerimento del peso della vita quotidiana, di svago. Riscoprire una passione che per molti rimane sepolta invece con ricordo scolastico. In molte scuole si fa già, in molte parti del paese esistono progetti come per esempio il Festival Letterature di Mantua che favoriscono la lettura libera e silenziosa nelle scuole. Noi crediamo che così con almeno 15 minuti di lettura silenziosa e libera ogni giorno nelle scuole si possa davvero costruire una piccola abitudine rivoluzionaria. Per questa edizione è tutto, potete seguire le attività del Consiglio regionale e le dirette delle sedute consultando i link alla pagina www.consiglio.regione.toscana.it www.consiglio.regione.it. 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 www.consiglio.regione.it.